Carmine Zigarelli scrive al governo, il massimo dirigente campano chiede aiuto per le società e per i giovani sportivi. Il numero uno della FIGC regionale è stanco che l'attività giovanile di tanti club venga bistrattata, che i giovani siano considerati un tori, che i pazzi innamorati per il calcio vengano messi da parte, è chiaro. Chiediamo più attenzione verso i nostri ragazzi e soprattutto di farli tornare in campo. Recenti studi dimostrano che all'aperto avviene solo un contagio su mille. Inoltre, se si è rientrato a scuola, non vedo perché non si possa ritornare su quel rettangolo di gioco, tanto amato dai giovanissimi. Sono loro che più di tutti stanno pagando per questa pandemia. Si parla di disturbo da Covid e quindi chiede interventi immediati da parte delle autorità governative. Zigarelli prosegue ancora, sottolineando quanto l'attività dei giovani atleti nella nostra regione sia un autentico fenomeno sociale. In campagna è strumento di aggregazione e in tanti si sono allontanati da ambienti pericolosi, proprio tra un palleggio e l'altro e con una pacca sulle spalle di tanti presidenti di società. Mostra ancora vicinanza alle squadre che hanno investito tanto, dirigenti che rispettano in toto i protocolli anti-Covid, investendo denaro per poi poter vedere chiuse le attività sportive. Loro sono i nostri coltivatori di speranza e di coraggio, che però oggi sono in enormi difficoltà e devono essere aiutati e sostenuti perché una società che pratica sport genera una comunità sana e rispettosa delle regole. Così facendo stiamo disperdendo un tessuto sociale, non possiamo più lasciare i bambini lontani dal calcio, non possiamo più rubare loro la gioia di un ghoul, dell'incontro con i compagni di squadra e di quelle emozioni uniche che solo il manterboso può regalare. Nella sua lettera il dirigente Erpino diede pur rispettando le priorità di altre categorie che vengano fatti i vaccini. Per provare a tornare alla normalità il Governo accolga il nostro grido di aiuto, ci autorizza ad organizzare mini-tornè in tempi brevi e fornisca contributi diretti ai club l'ospicio e che la sua richiesta venga accolta.